Si ricapitola, si riassume in questa parola, amarsi, però c'è una cosa da dire, che il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da duemila anni è rimasto lo stesso, amarsi solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente e quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo, ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amare, noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi, affrettiamoci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, perché non esiste amore più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi e perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate come le montagne, i mari, le strade, ma di più, di più il cielo, il vento, di più le stelle, di più le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente quando le guardiamo si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono, perché? Perché contengono un presentimento d'amore, anche le cose inanimate, perché il fasciame di tutta la creazione è amore e perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose, la felicità, sì, la felicità, a proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente, anzi chiunque mi ascolti ora si metta in cerca della felicità ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete, guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori, c'è la felicità, provate a voltarevi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì, dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita, e non dobbiamo avere paura nemmeno della morte, guardate che è più rischioso nascere che morire, non bisogna avere paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero, saltate dentro all'esistenza ora, qui, perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più, è qui l'eternità, dobbiamo dire sì alla vita, dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no, perché alla fine di queste due serate insieme abbiamo capito che non sappiamo niente, e che non ci si capisce niente, e si capisce solo che c'è un gran mistero, e che bisogna prenderlo com'è e lasciarlo stare, e che la cosa che fa più impressione al mondo è la vita che va avanti, e non si capisce come faccia, ma come fa? Ma come fa a resistere? Ma come fa a durare così? È un altro mistero, e nessuno l'ha mai capito, perché la vita è molto più di quello che possiamo capire noi, per questo resiste, se la vita fosse solo quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto tempo, e noi lo sentiamo, lo sentiamo, che da un momento all'altro ci potrebbe capitare qualcosa di infinito, e allora ognuno di noi non rimane che una cosa da fare, inchinarsi.